Prendo il taxi, chiamo, si salve avrei bisogno di un taxi in via bla 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 Ok 6 minuti arriva, va bene, manco mi ha chiesto il nome Scendo e vedo una macchina del taxi appostata a un metro di distanza, anzi un bel po' di distanza dal mio numero civico Allora mi avvicino, alzo il braccio, tra l'altro io quando alzo il braccio tocco quasi Gesù Cristo perché immaginatevi Alzo il braccio Salve Rao? 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 Cazzo dice questo? Simone! Rao? Rao? Non so se non è fumato Simone, ho prenotato, non mi ha chiesto il nome, Rao? Ma questo è fuori, questo qua gli ha dato la patente, ma cazzo dovete dargli qualcos'altro? Vado a mantenersi Ho prenotato, ho prenotato qua per andare in City Life Rao? Porco diaz, ma capisci quando parlo te lo devo scrivere in un'altra lingua? Io ho prenotato, non so se la via è quella dietro Rao? Non sono Rao, Cristo di un Dio, non sono Rao in questo momento, non sono Rao Vi giuro ha continuato Dopo, finalmente è uscito da questo effetto placebo, probabilmente Mi fa Sì 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 E no, mi ha chiamato, mi ha detto Rao Che si chiama Rao? Rao? Leao? Rao? E no, ma sei tu? Ti ha dato il numero del taxi? Ho detto, ascolti, non è che quando mi chiamano mi memorizzo il numero del taxi Già tanto che mi ricordo che ho chiamato quasi Quindi Eh no, Rao, mi ha detto che chiamerei Io ho detto, guarda, manco mi ha chiesto il numero in realtà Cioè manco mi ha chiesto il nome Quindi Rao per me potrebbe essere veramente una marca di preservativi Cioè veramente per farle capire, cazzo Rao? E io sono salito con l'appellativo di Rao Vabbè, ci sta Vorrei che mi chiamaste Rao Rao Rao, Rao